Ciao a tutti e benvenuti in un video di MAGIC BATCH. Oggi continuiamo con Eurotrack e vi faccio vedere. Allora ieri sono entrato in un nuovo discord e mi sono messo insieme diciamo un gruppo che sa il fatto suo in quanto di Eurotrack e siamo entrati quindi mi ha fatto scaricare due app che servono tipo anche nella realtà e quindi è proprio una roba fatta bene penso che hanno il loro trust book dove scegliono tutte i registri delle aziende, i vettori e tutto il resto. Poi c'è anche il multiplayer, il multiplayer che faccio vedere con la vita se qualcuno ci vuole aggregarci e aggrega. Cache mp, adesso lo apre. ok qui praticamente anche qui ci sono tutti gli eventi, state del server, versione, una giornata questa qui, se io vado a giocare, mi apre direttamente la pagina con loro, se non sbaglio è TMI Logistica Italia, quindi tanta roba, e praticamente qui noi andiamo a giocare tutti qui e andiamo a mettere poi dopo le tipologie di gioco, qui viene registrato come vedete prima tutto, che quello che è... sto perdendo un passaggio no? Ok che dopo ci va a ricordarmi, non mi ha ricordato, a piacere. Muscolo. ricordate. Ok l'abbiamo fatto, quindi dopo qui ci va a scelterciare il se fare Simulator 1 no perché te meno no? nel senso che devi rispettare tutti i limiti invece qui viene richiesto un po' che è veloce fare un po' di chilometri perché sennò la gente non... è un po' noioso stare lì dietro uno che fa rum a che agli 80 90 devi rispettare te limiti invece Simulator 2 orkey noi giocheremo spesso quando faremo le live con le cose lì staremo molto su Simulator 2 o su Arcade, Arcade c'è poca gente infatti 5 persone che ce ne sono 80 su Simulator 2 e Arcade con il loro permesso poi vedremo se mi darà il permesso chiederò nei vocali così facendo la live però attivo anche Discord così magari ci sentiamo anche oltre al cb anche su Discord e se avrò questo consenso queste cose ci divertiremo ancora al doppio via su Aerotrack adesso comincerà... porterò molto più questo che gli altri giochi perché ho visto che tira di più anche a livello di video e vediamo un po' magari intanto porterò anche gli altri ma mi concentrerò più che altro su questo dovrò di prendere poi piano piano ragazzi anche prendere altre mappe tutto perché mi hanno sempre detto che diventerà una roba spettacolare con tutte le mappe perché ci saranno delle mappe aggiuntive dovremmo di mettere anche delle mod se ci sono delle mod per crescere più velocemente e via ce l'ho e roba del genere e niente per questo video ragazzo vale tutto e ci vediamo nelle live perché ci saranno video un po' lunghi quindi tenderò a fare le live sperando che non me le spessi come di solito a fare Twitch e in quel caso vi guarderete per i live cosa vi dobbiamo dire intanto Twitch c'ha questa cosa che mi spessa le live non so perché vabbè quindi per questo video ragazzolari è tutto io vi saluto e vediamo al prossimo video fatti bravi ciao da meci ciao